Buonasera, sono Svati Enrico per uscini dalla Casa Nogluo Gawaha, Italia. Questa sera vedremo la quinta tecnica, Goban Renzo Kudosan, di Aiki Jujutsu Hidōi Nihonime. Partiamo dalla posizione di attesa classica, l'attacco sarà mai molto e più di tori. Quindi faremo un piccolo musubi per bloccare il nostro piede, ruotiamo le mani a prendere il suo polso, lo andiamo a ruotare leggermente alto in maniera che mi possa offrire l'altro fianco e gli dia quasi la possibilità di volermi di nuovo attaccare dall'altro braccio. Parliamo, afferriamo l'altro braccio, lo portiamo violentamente a sedere a terra e a fermarsi contro il nostro ginocchio sinistro. A questo punto lasciamo la mano destra, cambiamo le ginocchia, andiamo ad afferrare con tutte e due le mani il suo braccio sinistro e lo portiamo violentamente a terra. Da questa posizione andiamo subito con la gamba destra a bloccare le sue gambe, scendiamo portando il suo braccio contro il nostro oddome e chiudendo in leva. Vediamo. Senti. Senti.